ciao ragazzi eccomi qua sono il fratello di francis nebula e state vedendo il quinto video qua mio fratello sta usando scaracca con acog e spas con calcio adesso qua comincia un po giocando a caraci caraci si è una mappa bella però cioè si fanno poche uccisioni però comunque buono 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 qua fa la prima uccisione suicidi assistito molto ecco si può si mette sempre in questa posizione perché è molto buona qua passano molti nemici e quindi appunti non me la ricordo tanto bene questa partita l'abbiamo fatta due settimane fa abbiamo rimata ora mi sa che che va sopra ma è così infatti va sopra poi sicuramente faremo un altro video usando il famas con con il sensore termico perché il famas unito al sensore termico e fmg veramente ve lo consiglio di usare perché proprio è fortissimo comunque ora vediamo un po qua che fa quando c'è di un altro devo dire la la partita è buona anche se fa fa uno scarso conteggio però uscirono poche volte qua che volevo parlare sono raffreddato purtroppo sta cominciando l'inverno ma sempre a sempre qui sopra perché lì in fondo dove c'è il camion trova sempre gente trova sempre un munchio di gente qua piazza un'altra da claymore ora mi sa che uccide uno o due con la claymore non mi ricordo e qua stava cercando l'arma per i fornizi della claymore non la trova non la trova è veri che pure mentre stava giocando lo dice ma qua fa una decisione a culo proprio ovviamente adesso sto mamma mia comunque parli non c'è di un altro segno cide ecco poi faremo un altro video consigliandovi le classi che che vi potete fare vi faremo vedere un video offline su queste classi vediamo se vi piace commentate mi raccomando qui ce n'era uno però ecco mio fratello spara lì per vedere se c'è però niente da fare ecco qua non capisco c'è lo scaracchio è pure forte con il mini acci però due colpi come dicevo nel terzo video misa uccide invece qua boh ma comunque ecco l'arma più adatta a questo campo è l'M240 perché si mette lì con l'M240 lì in fondo dove c'è la piazzola quella dove vassono tutti e lì fa molte uccisioni beh qua la partita finisce beh hanno vinto loro qua con l'uccisione di uno che poi non si è capito li sta sparando in lanciagrade ma lui non è morto vabbè comunque grazie di aver visto questo video e commentate presto ciao ciao ciao